Grazie, non siamo d'accordo. No, dalla lunga reata, in una commissione infanziale, si, ho pensato che ho visto posti per fare la presentanza del Goebbels, e poi ne eravamo... Non sei nato, ne hai detto? Penso a Minerva, era un elemento più celebrativo, ma oggi d'altronde è una giornata celebrativa, quindi va bene, fatto... No, ma non c'è altro, perché con un semestre europeo abbiamo oggi una conferenza su... Quindi abbiamo la delegazione dei Parlamenti europei che sono qui, e oggi abbiamo inaugurato questa. E poi, insomma, la Fausta Nettina, c'è il Papa...